per cominciare con una buona notizia vi leggo questa da pagina 5 del gazzettino di belluno un bando per fare legna nel bosco l'iniziativa coordinata dall'assessore de kunovic parliamo del comune di belluno per fermare le speculazioni nel settore solo una domanda per famiglia per altro giustamente le richieste vanno presentate entro il 10 di ottobre quindi attenzione perché c'è una ventina di giorni i vincitori del bando cioè chi potrà ottenere questa legna avranno a disposizione un lotto da 40 quintali allora un aiuto concreto dice il gazzettino alle famiglie riproponendo il bando per l'assegnazione della legna da ardere è l'assessore comunale lorenza de kunovic con delega alla manutenzione dei parchi cittadini all'ambiente all'agricoltura alla protezione civile ad anticipare la decisione metteremo a disposizione 60 lotti di materiale legnoso per ricavarne legna da ardere individuati nelle zone boschive del territorio comunale di belluno e nel rispetto del vigente piano economico forestale comunale per ogni domanda verranno assegnati fino a 40 quintali stimati di legna da ardere di latifoglie e conifere ovviamente per dare il massimo accesso ai cittadini abbiamo previsto che possa essere fatta un'unica domanda per nucleo familiare le domande dunque potranno essere presentate entro il 10 ottobre e una volta ottenuta l'assegnazione in ordine di domanda sarà possibile eseguire il taglio e l'esbosco per i siti fino ai mille metri di altitudine fino al 15 aprile 2023 mentre per i siti sopra i mille metri di altitudine fino al 30 aprile dell'anno prossimo siamo in una fase delicatissima in cui tutte le amministrazioni comunali soprattutto quelle di medie e piccole dimensioni sono in difficoltà conclude de kunovic per questo la nostra giunta ha fin dall'inizio cercato di darsi da fare operando in più direzioni per cercare senza programmi faraonici innanzitutto di essere vicina all'esigenza primaria della popolazione con i prezzi di gas e petrolio alle stelle c'è la rincorsa alle fonti di energia alternative in particolare della biomassa il legname in primis a belluno per quanto riguarda la legna da ardere esiste anche in questo settore grande speculazione se la domanda supera l'offerta quest'autunno i consumatori avranno un bel problema in molte rivendite infatti pare si registri il quasi tutto esaurito e solo pochi giorni fa il segretario provinciale della cgl mauro de carli ha spiegato come il rischio di manipolazione del mercato sia elevato con il rischio che qualcuno trattenga la legna per far lievitare il prezzo scatenando la preoccupazione dei mercati l'operazione della de kunovic va quindi nella direzione di garantire a chi fa più fatica economicamente di poter utilizzare il legname del bando allora abbiamo cominciato con questa buona notizia la rassegna stampa di radio piave in blu di sabato 17 settembre condotta come sempre dai giornalisti dell'amico del popolo oggi ci sono io luigi guglielmi vi auguro una buona giornata e adesso un buon proseguimento di rassegna su questa stessa pagina 5 del gazzettino di belluno andiamo a leggere il taglio basso che è una notizia invece tristissima ero indeciso se darvela per prima ma ho preferito darvi una buona notizia prima adesso però vi leggo quella brutta un fatto dei giorni scorsi è caduto in provincia di treviso ma adesso si scopre che protagonista è un bellunese già mal è stato travolto e ucciso vicino a casa era in bicicletta l'investitore si scopre adesso è un 32enne bellunese il ragazzo di 24 anni c'è anche la foto vediamo eccolo qua ve la riesco a mostrare per chi ci segue su facebook su youtube amici della radio poi potete andare a vedere il ragazzo 24enne pedalava nel buio e la golf usciva dalla 27 l'articolo pedalava nel buio per andarsi a prendere le sigarette e si teneva stretta alla felicità di aver finalmente ottenuto il permesso di soggiorno dopo una lunga attesa sentiva che quella vita migliore in italia era ormai vicina invece il suo sogno si è infranto tragicamente jamal tuichi 24enne di origini marocchine è stato travolto e ucciso a pochi metri da casa dalla golf condotta da un 32enne bellunese residente a mel borgo val belluna fatale il volo di oltre 10 metri questo giovane di 24 anni è stato sbalzato di sella è atterrato proprio di fianco alla casa dell'amica di cui era ospite l'ennesima tragedia sulla strada si è consumata nella notte tra giovedì e ieri a san vendemiano in via ungaresca il giovane marocchino nella marca già da diversi anni con alle spalle lavori saltuari come ambulante e bracciante agricolo è la settima vittima da inizio settembre la media impietosa di un decesso ogni due giorni e mezzo dunque io salto qualche cosa di questo articolo per leggervi altre poche righe l'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte in via ungaresca a saccon jamal originario di marrakesh ospitato al civico 58 esce di casa per comprare le sigarette ma sulla via del ritorno viene preso in pieno da una volkswagen golf che viaggia nella sua stessa direzione di marcia la vettura era appena uscita dal casello dell'autostrada a 27 al volante appunto un 32enne di mel che dice di non aver visto la bicicletta l'impatto è stato violentissimo adesso si tratterà di capire se la bicicletta aveva comunque le luci accese se era visibile perché questo è un fatto importantissimo c'è troppa gente che gira a luci spenti in bicicletta di notte è pericolosissimo bisognerà anche capire se questo giovane che era appena uscito dall'autostrada con la sua golf magari teneva o meno una velocità adeguata alle strade invece normali tutte cose che dovranno accertare gli inquirenti per stabilire bene le responsabilità l'impatto è stato violentissimo il 24enne viene scaraventato in avanti abbiamo detto è morto sul colpo l'automobilista si è fermato a prestare soccorso ma jamal era immobile già in una pozza di sangue inutili i soccorsi i mezzi coinvolti sono stati posti sotto sequestro come dicevo prima per le la salma è stata portata all'obitorio dell'ospedale di conegliano a disposizione dell'autorità giudiziaria che nelle prossime ore aprirà un fascicolo per omicidio stradale un atto dovuto di fronte all'ennesima tragedia però come dicevo bisognerà anche accertare io non ho elementi per dirlo se la bicicletta anche viaggiasse in modo corretto e sicuro sempre da questa pagina oggi trovo tante cose interessanti anche drammatiche in questa pagina 5 un'altra bella notizia grande pedalata della val belluna al via 80 chilometri nell'anello belluno feltre belluno allora quale modo migliore dice giovanni santin per festeggiare la settimana europea della mobilità se non riproponendo ed è la quinta volta la grande pedalata della val belluna questo ha fatto la fiab federazione italiana ambiente e bicicletta di belluno e feltre mettendo in programma l'evento per domani dopo due anni di covid dunque la pedalata è di nuovo aperta a tutti l'iscrizione è online sul sito internet www.bellunoimbici.it e la manifestazione si svolgerà anche in caso di pioggia a meno che non ci sia un'allerta meteo ma dovrebbero essere buone le previsioni l'edizione in programma domani lungo il percorso cicloturistico di 80 chilometri che unisce belluno a feltre in destra e sinistra piave offre due novità assolute la prima è la cartina cicloturistica anello della val belluna fresca di stampa realizzata da fiab belluno che verrà regalata a tutti i partecipanti uno strumento utilissimo per chi voglia scoprire la val belluna in bicicletta perché oltre al percorso belluno feltre in destra e sinistra piave presenta anche cinque digressioni che partono dall'anello e lungo la direttrice della destra portano in val del miss con i cadini del brenton la cascata della sofia i paesi di gena in val canzoi con il museo tecnografico a serravella eccetera lungo la sinistra le digressioni arrivano a santuario di santi vittore corona al vinchietto al castello di zumelle sul retro della cartina sono brevemente descritti i principali punti di interesse che si incontrano direttamente sul percorso della ciclabile quest'anno io sto saltando di qua di là nell'articolo lascio a voi poi la lettura del testo completo quest'anno c'è davvero motivo di festeggiare perché eccetto un chilometro in località casonetto tutto il percorso belluno feltre si svolge su ciclabili o strade a basso traffico tanto che il sito bici italia ha inserito l'anello della val belluna nelle ciclovie di qualità cioè percorsi cicloturistici che per infrastruttura caratteristica del paesaggio sicurezza servizi offerti possono essere considerati al di sopra della media nazionale quindi veramente una bella notizia per giova che ci racconta giovanni santin bravi bravissimi gli amici della bicicletta fiab di belluno e di feltre che abbiamo anche intervistato noi come amico del popolo qualche tempo fa proprio sulla costruzione delle della cartina queste ultime fasi ecco che rendono possibile e finalmente fruibile questo bellissimo anello tra belluno e feltre che tra belluno e feltre appunto che la si faccia in sinistra o in destra sono una quarantina di chilometri un po di più rispetto alla percorrenza sulle strade principali bellissimi e sicuri l'anello appunto prevede prevede un anello cioè destra e sinistra piave 80 chilometri in tutto allora torniamo andiamo alla prima del gazzettino che ancora non vi ho mostrato perché abbiamo cominciato direttamente dalla pagina dalla pagina 5 no volevo farvi vedere la prima pagina dell'edizione locale di belluno che appunto porta anche queste notizie che vi dicevo sul sul legname la notizia del legname è nel taglio basso il bando legna gratis per chi va a tagliarla nel bosco ecco questo è il riassunto molto efficace fatto in prima pagina allora vi dico quali sono gli altri titoli di questa prima pagina allora titolone a tutta giustezza cioè largo come l'intera pagina all'asta case per 40 milioni di euro centinaia di immobili abitazioni private hotel e terreni sono frutto di pignoramenti rimangono senza compratori gli sconti arrivano fino al 60 per cento del valore è la fotografia di una provincia sempre più in difficoltà è un virgolettato e il gazzettino la redana marsiglia pagina 2 ha sentito in particolare vigne case proprietà edilizia case pignorate in vendita a prezzi stracciati e molte delle quali finite anche in saldo con sconti che sfiorano il 60 per cento rispetto alla base d'asta iniziale base che solitamente già fortemente sotto il valore di stima dell'immobile la fotografia di una provincia sempre più in difficoltà ma anche di come il sacro mattone di un tempo si è ormai diventato l'incubo di chi si ritrova magari ad ereditare la sua vecchia la vecchia casa dei nonni la si può scorgere questa fotografia sul portale delle aste giudiziarie enti e tribunali complessivamente il valore che stato e banche si contendono è di quasi 40 milioni di euro l'esperto oggi essere proprietari è una sventura la casa è il bene più aggredibile per eccellenza grazie al quale tra l'altro vengono finanziati i due terzi delle spese correnti dei comuni oggi essere proprietari di un immobile è una sorta di sventura specie se ti capita in eredità spiega con fedelizia troppo un'esagerazione però però chiaro insomma che questi numeri di cui si diceva sono importanti e vanno considerati per quello che significano sul serio allora stalking e proiettili il pm chiede cinque anni per gli imputati la vittima era stata intimidita nel 2014 nel frattempo è morta per cause naturali chiesti complessivamente cinque anni e quattro mesi per i due imputati del processo sui presunti atti persecutori contro michael zanella la ragazza morta sei anni fa per cause naturali nella casa di lentiai una vicenda che intreccia la presunta persecuzione amorosa del suo ex datore di lavoro di trichiana e la sparatoria contro un'auto a villa di villa compiuta da un trevigiano ingaggiato appositamente dal primo per una presunta intimidazione verso il precedente datore di lavoro della giovane qui approfondisce bonetti non leggerò oltre a pagina 12 trovati i dettagli si tratta di una vicenda tristissima e inquietante lascio a voi l'acquisto e la lettura del gazzettino in tribunale morte nel bosco nessuno sconto all'imprenditore appello in appello viene confermata la condanna a quattro anni e cinque mesi per l'imprenditore si tratta di riccardo sorarù accusato della morte del boscaiolo ventottenne ingaggiato a nero sul corriere delle alpi vedremo che l'apertura è sulla morte di un diciottenne dalle parti di venezia che stava facendo uno stage insomma il problema della sicurezza del lavoro è sempre enorme cari amici della radio sto mostrando in questo momento a chi ci segue su facebook e su youtube una foto bellissima d'epoca con un sacco di bambini braghette corte gambe cicciottelle ecco questi bambini sono una foto d'epoca sono ex alunni della scuola divina provvidenza di Cusighe quattro generazioni di scolari la scuola compie cento anni l'asilo di Cusighe trovate su www amicodelpopolo.it e su facebook su youtube su instagram un'intervista che ho fatto io ieri a Fulvio de Bon che è il presidente del comitato che gestisce la scuola se volete saperne di più quindi potete leggere qui santin potete anche guardare la nostra intervista ad un secolo esatto dalla fondazione sabato 24 settembre la scuola dell'infanzia e il nido divina provvidenza di Cusighe inaugureranno la mostra 100 più 100 una comunità narra la storia della propria scuola Feltre crescono le prestazioni nel reparto di ortopedia ponte nelle Alpi tetto distrutto dalla tromba d'aria operai al lavoro allora nelle prime due pagine vi dicevo c'è l'approfondimento sulle case sul mattone e poi si passa alle ad altre notizie di carattere locale a Feltre l'apertura è sui nuovi numeri più che positivi dell'ortopedia e poi si va avanti però io volevo sempre per parlare della provincia di Belluno andare a una pagina importante che finisce nel fascicolo nazionale vediamo se la trovo se la trovo subito eccola qua firma Marco di Bona firma Marco di Bona per la pagina 14 del gazzettino nazionale cortina la fondo del cio il comitato olimpico internazionale avanti con la pista di Bob il presidente Bach l'impianto è sostenibile non impatta sul budget dei giochi 2026 ma la go noi rispettiamo gli impegni la struttura è al centro del masterplan allora questa cosa è molto importante perché ricorderete avevamo aperto anche la rassegna nei giorni scorsi su questo tema a cortina sono state raccolte 1800 firme e sono state presentate proprio un segno anche così di forza di volontà sono state presentate direttamente al presidente del comitato olimpico internazionale thomas Bach che a cui viene chiesto di sospendere con il progetto di fare il Bob a cortina e di spostarsi a Innsbruck per le olimpiadi del 2026 anche Zaya a quel punto ha detto va bene basta allora adesso basta incertezze si esprima il comitato olimpico internazionale noi crediamo importante farli a cortina il sindaco è d'accordo con il presidente Zaya gli industriali anche le categorie anche vogliono il rilancio il rifacimento della pista da Bob però a questo punto Zaya stufo ha detto va bene adesso si esprima Bach e così tagliamo la testa al toro e Bach ha risposto senza alcun dubbio il Bob va fatto a cortina il comitato olimpico internazionale approva la ricostruzione della pista eugenio monti di cortina per accogliere le gali dei Bob slittino e scheletto nei giochi olimpici invernali di milano cortina 26 è il tedesco thomas Bach presidente del cio a comunicare l'inversione di rotta rispetto al suo precedente invito nel quale chiedeva di non sprecare risorse per un nuovo impianto e scusate di avvalersi della pista di eagles presso Innsbruck in austria abbiamo discusso la questione della pista di Bob slittino scheletto di cortina con le autorità locali siamo stati informati sui lavori ne abbiamo parlato al cio e siamo d'accordo sulla soluzione prospettata per motivi di costi e sostenibilità perché questo progetto non impatterà sul budget dei giochi e il centro sarà utilizzato anche dopo le olimpiadi ha dichiarato Bach ieri a Roma per ricevere il collare d'oro il massimo riconoscimento sportivo in italia attribuito dal comitato olimpico nazionale parole che almeno per ora mettono fine a una settimana di polemiche e tensione sull'impianto simbolo delle olimpiadi in terra d'ampezzo qui la vicenda viene ricostruita era stato luca zaia presidente della giunta regionale del veneto a chiedere un intervento netto chiarificatore del presidente Bach il cio che peraltro ha dato il via a questo dibattito tempo indietro cioè con le dichiarazioni non chiarissime di Bach si esprima in modo chiaro e inconfondibile aveva scritto zaia non abbiamo alcun feticismo per le opere pubbliche solo la volontà di portare avanti un progetto nessuno si innamora delle opere pubbliche però aveva detto zaia non è accettabile che si descrivano questi progetti come mal pensati e privi di programmazione insomma capite che dopo gli ha fatto eco giovanni malagò insomma serviva questa dichiarazione il capitolo finale non vi leggo tutto il pezzo anche qui lascio a voi approfondire dice gli ambientalisti il coordinamento di associazioni ambientaliste per altre strade aveva preannunciato un presidio pacifico al foro italico proprio per manifestare davanti a thomas bach lo abbiamo fatto per manifestare il forte dissenso sulle modalità di gestione dei giochi molte delle strutture sono insostenibili ambientalmente socialmente ed economicamente vabbè diciamo anche che è logico che in queste situazioni si presentino anche osservazioni di questo genere allora corriere delle alpi la prima pagina prima pagina la foto sotto la testata riferita a questo ragazzo di 18 anni di cui vi dicevo prima il titolo morire di stage a 18 anni questo ragazzo stava facendo uno stage in un'azienda vicino a casa lui è diceggia era diceggia erano nei pressi di un macchinario lo stavano utilizzando quando una barra di metallo si è mossa gli è caduto addosso e lo ha schiacciato lo ha ucciso morto a 18 anni era successo da poco in friuli con un altro giovane durante uno stage lo mettiamo insieme a quell'altro incidente di prima di cui dicevamo gli incidenti nel mondo del lavoro sono ancora tantissimi non si fa mai abbastanza per la prevenzione perché continuano a capitare infatti il titolo di fianco è operaio in nero morì nel bosco titolare stangato qui approfondisce Gigi Sosso il titolone è sulle olimpiadi i tempi sono stretti il villaggio olimpico potrebbe essere fatto a questo punto con i prefabbricati per essere poi anche smontato subito dopo e quindi senza consumo del territorio dice zaia in realtà si sa che i tempi sono anche molto stretti e si fa prima a mettere su dei prefabbricati quindi insomma il presidente del cio dice qui ma solo nel titoletto francesco dalmas che firma benedice la ristrutturazione della pista da bob quindi anche qui la notizia che thomas bach dice il lancio ha preso posizione nettamente a favore del recupero della pista da bob e genio monti di cortina delusione tra gli ambientalisti a feltre c'è stato un flash mob per la sanità feltrina la direzione medica è stata affidata a marconato in prima pagina sul corriere una foto che si riferisce a questo poi bellunese in auto travolge e uccide giovane ciclista non l'ho visto è quello che abbiamo letto prima sul gazzettino i da pian acquistano la loro sesta farmacia si tratta della sartori di mel borgo val belluna il rilancio acc diventa realtà marchio sest e due linee attive il progetto di rilancio dell'ex acc è quasi realtà martedì inizierà a produrre la nuova sesta di borgo val belluna e poi in taglio basso le nostre storie cioè le storie del corriere l'asilo di così che compie cent'anni mostra ed eventi la foto ritrae fulvio debon che presiede il comitato per i festeggiamenti e anche il comitato di gestione della scuola con stefano sala li ho intervistati ieri che è il direttore della filiale della banca pre alpi san biaggio che ha contribuito a per rendere possibile per possibili i festeggiamenti stefano sala che tra l'altro è di così che è stato anche alla direzione di quella stessa scuola realtà di cui conosce dunque benissimo l'importanza per questo la banca banca pre alpi san biaggio ha deciso di sostenere in modo così deciso questa scuola che da cento anni è un punto di riferimento per l'intera comunità e non solo di così che le prime fotografie sono drammatiche tristissime sono riferite all'inferno di acqua e fango dice pagina 2 che si è verificato nelle marche questa volta è toccato loro ci sono polemiche anche sulle previsioni del tempo non annunciate a me fa venire in mente vaia a quelle previsioni del tempo emesse dall'arpav che ci avevano messe in guardia messi in guardia tutti convinti a stare a casa e questo chissà quante vite ha salvato in provincia di belluno quella volta ma adesso ci stringiamo a questi nostri concittadini delle marche che hanno subito questo lutto importantissimo allora andando avanti arriviamo io vi saldo tutta la parte nazionale comprese le pagine dedicate a quel povero ragazzo morto e andiamo a vedere belluno l'apertura delle palla pagina 17 il gruppo farmacia dolomiti fa spesa mail salgono a 6 le attività dei fratelli da pian questo dice il titolone di apertura allora andando avanti ancora vi faccio vedere l'apertura su feltre e poi ci salutiamo qui travolge l'operaio l'altro titolo dunque permettetemi di scorrere velocemente eccola qui con la foto che poi quella stessa che c'è in prima flash mob e striscioni per dire basta al ridimensionamento dell'ospedale di feltre il comitato è tornato a manifestare in centro a un anno della sospensione dei ricoveri di psichiatria al santa maria del prato cioè queste sospensioni che peraltro avvengono anche su belluno purtroppo vengono viste come un ridimensionamento di feltre purtroppo i ridimensionamenti ci sono dappertutto in provincia zaia il villaggio parliamo dell'apertura di pagina cortina sarà removibile via libera all'utilizzo di prefabbricati con questo mi fermo qui vi auguro una buona giornata buon sabato 17 settembre ciao a tutti da luigi guglielmi